Instagram ha recentemente introdotto delle novità nelle stories, in particolare negli sticker, per andare incontro alle esigenze delle aziende locali, dei piccoli negozi, delle imprese, che sono toccati in maniera significativa dall'emergenza sanitaria mondiale. In questo caso Instagram ha creato degli sticker che possono aiutare le imprese con tante tipologie diverse. Andiamo a vedere come sono strutturate. Creiamo una storia, inseriamo una foto, quello che vogliamo, e poi andiamo negli sticker. Il primo che troviamo è quello compra a chilometri zero, caratterizzato dall'iconcina con la busta e il cuore. Molto interessante perché noi possiamo andare a menzionare un profilo, un altro profilo, i profili che iniziano in quella dicitura che stiamo mettendo ci vengono suggeriti, possiamo andare a menzionare questo profilo e andare a mettere il tag e lo sticker in altro nella nostra storia, o dove vogliamo, in qualsiasi punto. Perché è interessante e utile questo strumento? Perché se noi invitiamo i nostri clienti a fare una storia su Instagram, parlando del prodotto che hanno appena acquistato, della nostra bottega, di quello che stiamo facendo, questa storia poi è una forma di pubblicità in diretta fortissima, perché con questo tag gli altri utenti vedono magari grazie a merceria a creare, da cui oggi ho comprato questo e questo e questo, grazie perché ho preso le mascherine personalizzabili e tutto quanto, in questo caso noi abbiamo una forma di pubblicità in diretta verso tantissimi utenti che vedono la storia e soprattutto possono andare a cliccare sul tag, sul nome utente e scoprirci, quindi iniziarci a conoscere, scoprire quello che facciamo, andare a vedere il nostro profilo, le nostre stories e magari a diventare anche nostri follower. Quindi sicuramente molto molto interessante come aspetto. L'altra tipologia di sostegno è quella dedicata ai buoni regalo, ovvero la possibilità di inserire uno sticker che rimanda come link a un sito specifico che permette di fare i buoni regalo. Qui ce ne sono tre, GiftUp, Rise.ai e SumUp. Bisogna provare, sperimentare innanzitutto questi siti, vedere quello che può fare più al caso nostro come utilizzo, bisogna inserire il link qua, l'url per personalizzare l'indirizzo sul sito direttamente di questo servizio di buoni regalo e poi viene inserito lo sticker apposito. Cliccando sullo sticker si va al, si va finalmente riportati al sito e si può creare un buono regalo. Perché è uno strumento utile? È uno strumento interessante, era soprattutto nei momenti in cui i negozi erano chiusi, adesso per fortuna sono gli ultimi giorni in cui sto registrando questo video e fra pochi giorni riapriranno quasi tutti. Però per sostenere in maniera libera un'attività, magari le nostre attività preferite, andare poi a fruire dei suoi servizi alla riapertura, è possibile creare questo buono regalo, ma che si può fare anche in qualsiasi momento. Possiamo anche averlo standard per poi proporre ai nostri clienti quando non sanno cosa regalare, quando vogliono sostenerci o fare un pensiero interessante a qualcuno. Questi siti come funzionano? Hanno praticamente dei, semplicemente dei buoni che si possono personalizzare, noi impostiamo la grafica fra quelle che ci sono, impostiamo tutti i dettagli, il cliente fa l'acquisto tramite quel sito, c'è una commissione da pagare magari su 50 euro, 2 euro, 3, 4, 5, dipende dal sito, vengono tenuti dal portale che fa i buoni regalo, e il resto poi ci viene inviato e possiamo poi, il cliente riceve questo buono regalo da spendere presso di noi, noi abbiamo tutti i dati e possiamo avere a disposizione questa possibilità di fare un buono regalo online. Sicuramente interessante da provare, quindi consiglio di andare a vedere e approfondire questi siti proprio sui buoni regalo. L'altra possibilità riguarda invece un aspetto più per bar e ristoranti, con il delivery, quindi un adesivo che riguarda l'ordine di cibo. Si può anche qui collegare il nostro adesivo a dei servizi, al momento qui ci sono Deliveroo, Just Eat e Uber Eats, possiamo andare ad esempio a scegliere Just Eat, andare a inserire, mettere l'URL, il nostro link presente su questo portale, e poi avremo l'adesivo personalizzato che con un click porterà direttamente fuori da Instagram, porterà sul portale di Just Eat ad esempio, per far ordinare i prodotti. Magari mettiamo la foto di una pizza, se già utilizziamo naturalmente questi servizi per la consegna, più facile nelle grandi città rispetto magari alle piccole che sono un po' organizzate in maniera autonoma. Abbiamo già questi servizi per la consegna, mettiamo la foto di una bella, di una pizza, magari di qualcosa che vogliamo proporre come consegna, l'utente clicca, perché è invogliato dalla nostra storia, e in poco tempo viene riportato al portale dove può effettivamente ordinare questa pizza, questo piatto, questo prodotto, per poi ordinarlo da sporto e vederlo consegnare direttamente a casa. Quindi anche questa possibilità interessante, dedicata più chiaramente a chi fa e chi tratta il cibo. Sono i sticker che sono in continua evoluzione, c'era anche quello, io resto a casa, che sto presente in tutto il periodo di lockdown, quindi sono soggetti a evoluzione, cambieranno, verranno tolti, ma a mio avviso alcuni, per esempio quello della consegna a domicilio e altre tipologie, spero anche il sostegno delle attività locali con l'icconcina proprio dell'acquisto locale, acquisto chilometri zero, spero che rimangano perché sono effettivamente una forma per promuovere e pubblicizzare le aziende locali che sono tanto importanti.